Bentornati, stasera è con noi una delle più importanti iscrittrici italiani con un libro sorprendente nel quale ci racconta la sua vita da bambina in un campo di prigionia del Giappone nel 1943. Dove il benvenuto a Dacia Maraini, il suo ultimo libro si chiama Vita mia, uscito per Rizzoli. Come mai ha deciso di scrivere questo libro 80 anni dopo i fatti, Dacia? In realtà l'ho cominciata a scrivere tanti anni fa, però lo lasciavo, lo riprendevo, lo lasciavo, riprendevo, lo lasciavo perché mi faceva fatica proprio affrontare, era come riaprire delle ferite, no? Però poi adesso tira aria di guerra, si parla ancora di guerra, si torna a parlare di guerra che è una cosa per me incomprensibile e allora ho detto bisogna che lo finisca e così mi sono imposta di finirlo e devo dire però che mi ha aiutato perché ho preso un po' più le distanze e non solo ma mi sono ricordata delle cose che avevo dimenticato. Che aveva rimosso. Il campo di prigionia si trovava in Giappone, come mai la sua famiglia si trovava lì nel 1940? Perché mio padre, ragazzino perché aveva appena laureato, ha vinto una borsa di studio in antropologia, ha vinto una borsa di studio per studiare una popolazione del nord del Giappone, si chiamano Ainu e così ha preso questa famigliola, la moglie appena sposata, io ero appena nata, quindi avevo un anno e siamo andati in Giappone. Il primo periodo è stato bellissimo perché vivevamo in maniera povera di questa borsa di studio però molto integrati nella cultura giapponese e tutto è cambiato nel 1943 perché hanno chiesto a mio padre e a mia madre separatamente di aderire alla Repubblica di Salò perché il Giappone aveva fatto un patto con la Germania nazista e con l'Italia fascista. E i suoi genitori scelsero di portare lei e le sue sorelle in un campo di prigionia piuttosto che farvi rinchiudere in un orfanotrofio. A distanza di tutti quegli anni ha valutato questa scelta? Se sì come? Beh, io penso che loro abbiano agito bene, anche se è stato durissimo, eravamo sempre, non era un campo esterminio però era un campo durissimo perché non ci davano da mangiare, però ecco io penso che quando si hanno degli ideali loro non erano politicizzati ma avevano un ideale, uno sicuro, erano contro il razzismo cioè il razzismo era per loro intollerabile, inconcepibile e siccome il nazismo e anche il fascismo erano basati sul razzismo loro hanno detto no, non fermiamo. Ecco che loro hanno detto siete da oggi traditori della patria. Senta, Dacia, nel campo voi bambine, lei e le sue sorelle non avevate diritto al cibo è vero che avete mangiato serpenti, bisce, acchiappati a mani nude? Quello che c'era si acchiappava e si mangiava, perfino un topo ancora mi ricordo il fatto di avere davanti un pezzetto perché poi si divideva naturalmente il povero topo mi dispiace ma quando si ha fame, quel tipo di fame e mi ricordo ancora di stare con un piatto, un pezzo di topo davanti bollito perché poi non è che si poteva, non c'era niente, neanche olio da friggere quindi bollito, piangevo e mio padre diceva mangia, mangia, devi mangiare perché quella è proteina Senta, mi ha colpito questa frase sul libro, vediamola in grafica con l'aiuto della regia la logica era che non dovevamo, che dovevamo soffrire ma non dovevamo morire Sì, loro ci tenevano nella sopravvivenza quindi mangiavamo giusto per sopravvivere, 20 grammi di riso al giorno senza né carne né pesce né verdura né frutta, niente però il corpo dopo un po' prima mangia se stesso poi dopo un po' comincia a ammalarsi perché ci si ammala di fame, cioè di nutrizione ci si ammala, beri beri, lo scorbuto, l'anemia, cadevano i capelli sanguinavano i denti, poi i muscoli non reggono più quindi era molto molto duro per noi però loro ecco ci davano quel tanto per sopravvivere però appunto di fame si muore quindi se fosse continuata la guerra probabilmente noi saremmo morti proprio di fame poi fra l'altro loro dicevano, ogni mattina ci contavano e dicevano appena noi vinciamo la guerra vi tagliamo la gola quindi io vivevo da bambina nel terrore di tutta la famiglia che sarebbe stata sgozzata ma è vero che suo papà a un certo punto si ribella e mostra l'orgoglio di essere italiano tagliandosi un dito? sì, a noi sembra una cosa pazzesca ma c'è un'abitudine, una tradizione della cultura samurai per cui se ti tagli un dito, si chiama yubikiri, taglio del dito se ti tagli un dito e lo getti addosso al tuo avversario gli crei un'obbligazione, non solo ma lui non può più dire che sei vigliacco perché hai dato una dimostrazione di forza e quindi lui che continuava a dire, italiani vigliacchi quando lui protestava, le bambine non sono prigioniere politiche date da mangiare e loro dicevano, figli di traditori, non si possono trattare meglio e allora lui un giorno si è arrabbiato ha preso l'accetta, si è tagliato un dito l'ha gettato addosso a questo casuia che era il capo delle guardie dicendo guardate che noi italiani non siamo vigliacchi soltanto abbiamo un'altra idea noi non siamo traditori è stato un uomo coraggioso le bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki decretarono oltre che la fine della guerra la fine anche della vostra prigionia 80 anni dopo lo spettro dell'atomica è più attuale che mai lo sguardo di chi ci è passato cosa puoi insegnare a chi vuole fare la guerra oggi secondo lei? noi abbiamo visto passare le folle che scappavano dalla bomba la gente che moriva per strada era una cosa atroce io credo, loro i giapponesi infatti hanno stabilito che loro non avrebbero avuto più niente a che fare con l'atomica adesso forse ci stanno ripensando ma secondo me non è quella la strada proprio non è quella la strada lei è impegnata da anni su un tema delicatissimo che è proprio la violenza di genere tra poco parleremo di un caso di femminicidio ma prima voglio far rivedere questo numero 28 sono le donne uccise nei primi 4 mesi di quest'anno 7 ogni mese quanto è importante il linguaggio per attuare la palità di genere? il linguaggio esprime la mentalità cioè il linguaggio è lì per esprimere una cultura infatti il nostro linguaggio, la nostra lingua è profondamente misogina il maschile è l'universale e il femminile è il privato, è il particolare però il femminicidio secondo me è dovuto al fatto che alcuni uomini deboli proprio quelli più fragili che hanno paura che sono terrorizzati non sopportano le nuove libertà femminili non le sopportano perché fra l'altro devono rinunciare ad alcuni privilegi un uomo saggio, come penso che sia lei un uomo saggio accetta i cambiamenti i cambiamenti a volte ci fanno fare dei sacrifici però ci migliorano ma bisogna accettarli loro non accettano, preferiscono uccidere in galera piuttosto che accettare un cambiamento grazie a Dacia Maraini per essere stata con noi Vita Mia, il suo bellissimo libro che vi consiglio grazie a Dacia Maraini per essere